Per usare un termine videoludico, finalmente ho platinato il Giappone. Questo è il visto permanente e oggi parliamo di visto permanente e di come si ottiene. Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finito il mese del ramen si comincia con i video classici e primo video di settembre con un vlog che mi riguarda in prima persona. Una bella notizia, finalmente in questo periodo ancora in cui il turismo non si sa quando riapre eccetera, però almeno una buona notizia, ve la do. Questo è il visto permanente, ve lo faccio vedere dalla parte di dietro per mascherarvi le mie informazioni personali anche se poi vi farò vedere questa tessera confrontandola con quella prima e finalmente l'ho ottenuto. E oggi parliamo appunto di come si ottiene il visto permanente e di qualche indicazione sui visti in generale. Prima di partire con il video e dirvi tutta la mia epopea di questi anni, vi faccio subito un grandissimo disclaimer. Questo è un video su YouTube, lo metterò anche su Facebook, ma comunque è un video che parla di visto, con delle informazioni, spero di essere il più accurato possibile e il più vero possibile, diciamo, con le fonti e con tutte le informazioni che ho. Rimane sempre un video su YouTube. Non vi riferite quindi a questi video come una fonte di chissà quale autorità. Questa è la mia esperienza. Queste sono le cose che so, però per tutte le informazioni precise riferitevi sempre, e ripeto sempre, alle fonti istituzionali preposte. Non mi chiedete come hai fatto te, come hai fatto, perché è meglio che non chiedete a me. Ci sono i siti, purtroppo sono tutti in giapponese, ma generalmente chi va a chiedere visto permanente è probabile che non abbia di questi problemi. Tra l'altro mi sono fatto una scaletta davanti per non dimenticarmi niente, per essere il più preciso possibile. Altro disclaimer, vi dirò anche qualche altra informazione, però questo qui è il punto di vista di una persona che ha ottenuto il visto permanente partendo da un visto matrimoniale. Come vedremo, infatti, ci sono alcune scorciatoie, alcune cose che cambiano in base alla tipologia di visto che qualcuno ha. Il visto, per chi abita a Tokyo, quando lo devi rinnovare, generalmente si va in un ufficio, che è quello di Shinagawa. L'esperienza dell'immigrazione di Shinagawa è, per ogni straniero che vive in Giappone, un'esperienza mistica. Sembra un po' un film, queste esperienze un po' tragiche, in cui vedi casi umani, storie, insomma, veramente, credetemi. E l'attesa, l'attesa è sempre snervante. Devo dire che con l'emergenza Covid, tra 18 virgolette, fortunatamente, le cose si sono snellite. Vuoi per la minore presenza di stranieri che richiedono il visto o vanno ad estendere il visto. Vuoi anche per il fatto che dentro il palazzo non si possa più accedere come prima e quindi sono state fatte delle misure che snelliscono un po' la procedura. Questa volta, infatti, tra la presentazione della domanda, che vi dirò dopo, in cui ci ho messo circa due ore e mezzo, tre, e il ritiro, 40 minuti scarsi, veramente è stata la volta in cui sono stato dentro l'immigrazione per meno tempo. Mi ricordo quando feci il permesso di lavoro, quando avevo il visto studentesco 11 anni fa, più o meno, e sono stato lì tutto il giorno, ma una roba veramente incredibile, incredibile. È un'esperienza in cui si capisce veramente che cosa vuol dire essere extracomunitari in un paese straniero. Posso fare sempre un gancio un po' nerd a tutta questa situazione qua? Vi dico una cosa, l'unico aspetto positivo, anzi, due aspetti positivi di quando negli anni sono andato a Shinagawa è che si passa davanti al quartier generale della Sony, quindi alla sede principale della Sony, e da qualche anno, da quando poi si è trasferito, davanti alla sede di Kojima Production. In più, altro aspetto positivo è che a Shinagawa c'è un ristorante brasiliano buonissimo, che si chiama Barbacoa, che vai lì e fanno, ti portano la carne con lo spiedo, mangia quanto vuoi, costicchia un po', però è ottimo. E nelle ultime volte in cui sono andato a Shinagawa ci sono andato sempre. Non c'è solo l'ufficio di Shinagawa, c'è neanche un altro, e quello mi dicono sempre essere a Tachikawa, se non sbaglio, e quello è un po' meno affollato. Vi faccio vedere subito la differenza tra queste due carte. Adesso partono le foto, io ce l'ho qui davanti. Come potete vedere, quella di sinistra è il visto nuovo, quella di destra con il buco è il visto vecchio, vuol dire che questa carta è stata annullata. La carta di destra, come potete vedere, ha praticamente la scadenza al 26 marzo del 2024, mentre quella di sinistra ha la scadenza con gli asterischi, quindi vuol dire è indefinita, dura per sempre. L'unica cosa che c'è sotto è che entro il 24 agosto del 2028 devo rinnovare la tessera con una foto nuova, perché ovviamente ogni sette anni, o no magari potrebbe cambiare, quindi è una tessera che non è per sempre, e quindi va rinnovata. Altra cosa che cambia è questa scritta in giapponese, sulla destra, questa qua che ho scritto Nihonjin no Haigusha, cioè praticamente c'è scritto che sono sposato con un cittadino giapponese, mentre su quella di sinistra c'è scritto Heijusha, come potete vedere c'è anche scritto in inglese sotto, che vuol dire Permanent Resident. Come si fa per prendere il visto permanente? Il visto permanente, ci sono tantissime regole per il visto permanente, prima di arrivare a, come dire, tutta la documentazione che serve, e che sono appunto, me le sono insegnate qua, e che oltre alle situazioni legali, aggiunge anche alcune policy che magari non sono scritte, ma che nella pratica giurisprudenziale del visto vengono considerati. Quindi avere un buon comportamento, senza avere precedenti penali, anche le multe potrebbero dar noia per l'ottenimento del visto permanente. Avere soldi in banca per potersi mantenere, questo poi ne parliamo dopo. Avere tutti i requisiti per mantenere appunto il visto, che siano avere un lavoro, quindi con un datore di lavoro come sponsor, oppure essere appunto sposati o altri. Dieci anni di residenza consecutiva in Giappone, oppure che devono appunto includere almeno cinque anni di visto lavorativo. Come vedremo poi, questa cosa c'è la scorciatoia, che vi dirò tra un po'. Avere il visto con il periodo più lungo di validità, che dovrebbe essere cinque anni, anche se qui dice comunque tre bastano, però comunque quello più lungo è cinque anni. Avere pagato tutte le tasse, questo e le pensioni, e ne parleremo dopo approfonditamente, e avere, vabbè, questo nel caso ci vuole un garante, questo più magari nel caso lavorativo, e stare appunto in Giappone, cioè risiedere fisicamente in Giappone. Tutto questo discorso della residenza di dieci anni viene accorciato, per esempio nel mio caso, nel caso in cui si sia sposati da più di tre anni e di stare insieme nello stesso domicilio da almeno tre anni. Aspetto fondamentale, che magari tanti danno per scontato infatti, è che essere sposati con un cittadino giapponese non dà diritto alla cittadinanza giapponese, che per poter essere presa deve andare in conto a un processo di naturalizzazione per il quale tu devi rifiutare la tua cittadinanza e prendere quella giapponese. Quindi per poter vivere in Giappone in conseguenza di un matrimonio con un cittadino giapponese bisogna richiedere il visto, non è automatico, bisogna richiederlo, bisogna fare la richiesta di visto matrimoniale. Che generalmente, se è un rapporto sano, normale, è nato con amore e nel tempo, non ci sono problemi. L'immigrazione comunque fa le proprie indagini. Vi siete conosciuti su internet e vi sposate dopo tre mesi che vi siete conosciuti. Puzza la cosa, no? Per esempio, a noi, siccome quando fai poi il visto matrimoniale devi chiedere per la prima volta, devi fare tutta una serie di moduli, tra cui c'è anche come vi siete conosciuti, foto annesse, eccetera, siccome noi siamo conosciuti in virtù di un'amicizia comune, il nostro amico è stato citato con tanto di numero di telefono, eccetera, e non l'hanno contattato, però se lo volevano contattare avevano tutti i riferimenti per contattarlo. L'immigrazione giapponese richiede molti documenti, poi non lo so se li leggono, però più requisiti loro mettono, più le persone sono scoraggiate a intraprendere determinati processi. Questo potrebbe interessarvi nel caso di visti lavorativi, anche col visto lavorativo, però quelli che adesso si chiamano high skill, quindi non so se sei un ingegnere con particolari competenze, eccetera, il requisito dei 10 anni può essere accorciato in base a quanti punti hai, come vengono calcolati questi punti, in base alla tua esperienza lavorativa, ai titoli di studio, eccetera, ma questo qui è un discorso che non conosco molto bene, quindi vi rimando a fonti più autorevoli della mia. Ricapitolando, normalmente il visto permanente si prende dopo 10 anni di residenza in Giappone. Le scorciatoie sono quelle che ho detto, tre anni essere sposati con un cittadino giapponese, oppure questa cosa appunto del visto di lavoro per persone con competenze molto alte, e poi vabbè, quelle per i rifugiati, figli di permanent resident. Veniamo proprio nel discorso documenti, tutto quello che bisogna produrre in termini di documenti per poter avere accesso al visto permanente. Sono tantissimi. La procedura nel caso mio è durata dai primi di aprile fino a fine agosto, quattro mesi, grosso modo, e in tempi normali avrei delegato un avvocato a fare tutto. Il problema qual è? Non mi sono informato nello step successivo se l'avvocato si occupa anche della produzione di documenti che potresti fare solo te, perché in realtà, ora come ora, andare all'immigrazione non è così stressante come prima, cioè, se dovevo passare otto ore sicuramente pagavo un avvocato per andare lì se avessi lavorato, se non ci fosse stato coronavirus. In questo momento, dato che ho tempo, ho fatto tutto da me. In realtà, però, la produzione di tutti i documenti che servono è la cosa più complicata e stressante che c'è di tutto il processo di richiesta di visto permanente. Apro subito questa parentesi, così mi aggancio a questa cosa dell'avvocato per dire, per esempio, che bisogna pagare assolutamente sempre la pensione. Perché dico questo? È la prima cosa che mi viene in mente, perché due anni fa quando volevo fare la richiesta di visto permanente contattai un avvocato che mi chiese tra le varie cose se avevo fatto dei pagamenti in ritardo. Io non ho mai pagato niente in ritardo se non due o tre rate della pensione tre o quattro anni fa. Perché? Perché avevo fatto l'addebito in banca che però non era stato agganciato per non so quale motivo e quindi avevo due o tre rate che invece prima pagavo al combini pagandoli in contanti direttamente che quindi erano rimaste in sospeso. Mi telefonarono per dirmi e lo pagate subito. Dissi di questa situazione all'avvocato che mi consigliò di aspettare un anno. Ho detto ma sicuramente non ci sono problemi però è meglio aspettare un anno. Quindi pensione bisogna pagare tutto male. altri pagamenti le tasse le tasse sono su due binari quelle dello stato appunto che si chiama Shoto Kuse che è l'imposta sull'eredito e il Juminze nel caso di Tokyo del quartiere dove abito che è la tassa di residenza che si paga al comune di residenza che include tutti i vari servizi che poi ti eroga il comune poi la spazzatura e tutte queste cose qua insomma è un'unica tassa che comprende tutto quello che serve al tuo comune al tuo quartiere di residenza per poter mandare avanti le attività devi dimostrare ovviamente di pagare anche questa ci sono dei moduli che tu vai a richiedere a questo mi pare che anche lì era questa cosa che si chiama Zemuscio che ti dà un foglio in cui scrivono praticamente che tu non hai ovviamente ogni documento che produci costa e alla fine di tutto questo procedimento si spendono circa 80-100 euro di documenti grossomodo e ti danno quindi questo documento in cui scrivono che tu hai pagato tutte le tasse però loro vogliono un'ulteriore prova che tu paghi tutto quanto e quindi per far vedere anche quanti soldi ho in banca ovviamente vogliono tutti i tuoi moduli della dichiarazione dei redditi sul reddito e tutto quanto il fatto che tu paghi tutte le tasse eccetera e vogliono vedere anche i tuoi asset quindi quanti soldi hai se hai proprietà allora io negli ultimi tre anni ho preso il mio Zuccio è praticamente una specie di documento al portatore in cui sono segnate tutte le operazioni bancarie dei conti correnti che ho va bene quindi ho fatto la fotocopia degli ultimi tre anni di tutti i miei movimenti bancari quindi hanno visto quanti soldi ho guadagnato quanti soldi aveva un banca e quanti soldi entravano siccome ho la debito in banca delle tasse di residenza hanno visto che io pagavo e anche delle tasse dello Stato hanno visto che io pagavo tutte le tasse che mi erano richieste quindi quella dello Stato e quella di residenza del mio quartiere poi vanno prodotte tutta una serie di altri documenti lato conio giapponese in questo caso mia moglie che mi sono stati tra l'altro richiesti poi in un secondo momento un mese dopo che avevo presentato la richiesta di visto e sono tantissimi ora io qui sto come dire riassumendo molto ma tutti i documenti che abbiamo prodotto saranno stati tra una cosa e un'altra 70-80 pagine credo se mi avessero bocciato questa richiesta la cosa che mi sarebbe stata più pensiero era dover rifare tutti i documenti quindi alla fine di tutto quanto è difficile prendere il visto permanente ma sostanzialmente se sei in regola no io non ho avuto il minimo dubbio che e non avevo il minimo dubbio che mi venisse concesso appunto il visto permanente perché era veramente tutto in regola sia al lato mio che al lato mia moglie perché il processo di valutazione non viene fatto solamente sul richiedente nel caso di un visto matrimoniale ma anche sul coniuge cioè il coniuge specialmente se se la parte straniera non guadagna molto funge sostanzialmente da garante Alexa quanti sono 3 milioni di yeni in euro? 3 milioni di yeni sono pari a 23.064 euro e 61 centesimi oggi per par con 10 abbiamo usato Alexa e non Google quindi se ha dei carichi pendenti dal punto di vista penale fiscale e tutto quanto è probabile che non venga rilasciato il visto permanente andando ancora avanti su questo discorso qua legato a tutti i visti c'è un problema adesso un non problema o meno problema che invece fino a luglio 2012 io sono stato vittima di questo di questo sistema qua era appunto presente cioè quello dell'uscita e del rientro dal paese nel vecchio sistema della quando la ZarioCard che questo si chiama ZarioCard mi sono dimenticato di dirlo quindi la residence card si chiamava Gaikokujin Torokusho cioè Alien Registration Card dove Alien è veramente eccezionale per poter uscire dal paese e poi rientrare avevi bisogno di uno stamp di un bollino nel passaporto che si chiama Rientry Permit Sai Nukoku Kyoka in giapponese che praticamente ti dava la possibilità di uscire e rientrare dal Giappone se non ce l'avevi il visto moriva il visto era automaticamente all'uscita dal Giappone annullato tantissime persone l'hanno perso per esempio scappando dal 2011 dopo che c'è stata il terremoto del Tohoku con conseguente crisi nucleare della centrale nucleare di Fukushima Daiichi quindi ci sono stati tante persone che l'hanno perso in virtù del fatto che non erano attrezzate avendo questo bollino dovevano andare via veloce e non potevano andare in migrazione a perdere tempo adesso è cambiata questa cosa già da luglio del 2012 e c'è appunto quello che si chiama Minashi Saino Kokokioka cioè lo special rientri permit il permesso di rientro speciale quando tu esci dal Giappone nell'embarcation card che è un foglio che devi compilare devi scrivere che esci dal Giappone mettendo una spunta su una casella che ti dà diritto di stare fuori dal Giappone per un anno che cosa succede? quindi se tu vai fuori e stai fuori per oltre un anno senza rientrare il visto ti viene annullato per chi forse sa o che potrebbe avere problemi eccetera hanno mantenuto comunque il sistema dello stamp stamp che è fatto in due versioni quello da 3.000 e quello da 6.000 yen quello da 3.000 yen ti dà diritto a un'uscita e entrata mentre quello da 6.000 yen ti dà diritto a più uscite e a più entrate adesso faccio un po' di considerazione personale finale dato che vedo che il video è comunque durato tantissimo mi premeva tanto raggiungere l'obiettivo del visto permanente per non avere più tutte quelle pendenze di andare lì rifare tutti i documenti eccetera perché tutte le volte poi sono sempre le solite cioè per un visto matrimoniale il primo anno ti danno un anno poi ti danno un anno poi ti danno tre anni e poi te ne danno 5 dopo che hai da un anno un mezzo due il visto da tre anni puoi chiedere subito il visto permanente e ora il fatto che dovrò solamente tornare a nell'inferno di Shinagawa nell'inferno tra virgolette ovviamente tra sette anni per cambiare la foto mi fa parecchio piacere anche perché poi dal punto di vista pratico sostanzialmente non è che cambi molto sicuramente cambia per quanto riguarda l'accesso al credito è molto più probabile che io come straniero adesso possa ricevere un finanziamento dalla banca anche per l'acquisto di una casa con il visto permanente rispetto che a un altro visto più corto dal punto di vista dei diritti doveri non cambia sostanzialmente niente tra l'altro anche con il visto permanente comunque gli stranieri non hanno diritto al voto diritto che hanno solamente i cittadini giapponesi bene direi che per questo video è tutto vedo che sono 32 minuti non so quanto tirerò fuori da tutto quanto video molto tecnico poco vissuto devo dire sono stato un po' più tecnico di quanto volessi essere ma quando voglio quando devo parlare di una cosa così voglio dare più informazioni possibili per far capire alle persone di cosa stiamo parlando di tutto quello che serve ottenere visti in questo paese non è assolutamente semplice ci sono tantissime polisi tantissime regole che vanno rispettate ma non è impossibile ottenere un visto di lavoro è invece come dire difficile nella misura in cui una persona sia più o meno preparata se siete molto preparati giapponese eccetera tutto quanto e non ipotetico vostro lavoro è probabile che avrete chance di trovare un datore di lavoro disposto a farvi un visto altrimenti è difficile a me scrivono tantissime persone spesso che chiedono non so faccio un esempio a caso sono un elettricista posso trovare lavoro in Giappone non lo so francamente se mi chiedi sono un pizzaiolo con vent'anni di esperienza ti dico guarda è probabile che lo trovi sono un ingegnere dell'automotive da vent'anni con esperienza di management eccetera se non te lo trovo se c'è il chi lo trovi c'è tutto il sistema dei recruiter che ti possono dare grazie a tutti per aver visto questo video sono molto contento di aver preso questo visto ho anche festeggiato la sera con Yuri abbiamo bevuto una bottiglia di prosecco se non sbaglio il prosecco è una marca che volevo dire ma che non dirò che costa pochissimo però è buono il prosecco italiano ovviamente vuoi fare un saluto col mandolino? chi c'è? no niente non c'è nessuno è il video che uscirà venerdì concludiamo adesso con 20 secondi di O Sole Mio in un prossimo video dei prossimi mesi che sarà Giapponesi e Mandolino seguitemi su Instagram, su Facebook, su Twitch www.tragad.it se ci vediamo la possibilità del Giappone prossimamente ciao ciao